sai perché ho sbagliato questo tiro non perché sono scarso ovviamente ma per la fisica nel tiro di basket la palla ruoterà in questo modo un corpo in rotazione in un fluido in questo caso appunto l'aria subirà una forza perpendicolare al moto del corpo stesso questo è l'effetto magnus quindi in questo caso con la rotazione della palla la palla stessa subirà una forza verso l'alto rendendo più facile il canestro